buongiorno a tutti eccoci qua nella nostra cucina del blog bocabua lo so che abbiamo messo qualche chiletto in più in questa quarantena mi aggiungo alla lista e per questo motivo oggi ho preparato per voi ma anche per me una deliziosa insalata con cetriolo avogado pomodorini carota un porro tagliato fine fine per darle un po di sapore potete abbinarla a un secondo a vostra scelta mi raccomando che sia leggero leggero ciao 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 ciao